Benvenuti in questa nuova lezione del modulo della delega inerente alle azioni operative delegabili. Spesso mi viene chiesto quali sono le azioni operative delegabili. Potenzialmente potrebbe essere tutto come niente. Quindi andiamo a capire innanzitutto cosa significa delegare. Ho fatto un breve trafiletto qua. Delegare significa far fare a qualcun altro il lavoro al posto nostro, perciò dobbiamo sempre essere attenti a fare una buona selezione su base oggettiva e anche un controllo qualitativo quando si ottiene il primo lavoro dei nostri delegati. Perché? Perché se noi andiamo a delegare dobbiamo essere certi che le persone o le figure che andiamo ad assumere o comunque a prendere la spot facciano un lavoro migliore di quello che potremmo fare noi o comunque non ci facciano speccare il nostro tempo per fare un lavoro migliore di quello che potremmo fare. E in questo caso dobbiamo selezionare le persone e adesso andremo a vedere tutti i punti fondamentali. Ed è proprio qua che si vede la bravura di un imprenditore. Quindi che già lo siato, che lo siete per diventare, dovete capire che se un imprenditore è importantissimo nella selezione delle persone e dei talenti che lavorano per voi, per comporre la vostra azienda e voi dovete essere il maestro dell'orchestra che indirizza tutti quanti per la retta via, per l'ottenimento di risultati e per la scalata continua. Ovviamente se non sapete gestire bene è molto difficile andare a scalare e andare a crescere. Perché? Perché io devo gestire bene il team per poter produrre bene, poter far di più e devo essere io il punto, diciamo, di unione, il collante tra tutti e devo fare il mio lavoro al meglio. Quindi la delega è importante, la delega è importantissima, andare a delegare alle persone giuste, andare a trovare le figure giuste, ma è anche importante farle mecciare tra di loro, farle collaborare tra di loro e in più dare indicazioni solide e ferree. Ma andiamo subito a vedere qual è la prima operazione delegabile o meno. Adesso la valuteremo. La prima operazione delegabile è lo studio della nicchia. Anche se io personalmente consiglio sempre di farla a voi in primis per imparare, punto primo, e per poter fare un controllo di qualità maggiore. Ma in ogni caso può essere delegabile all'occorrenza, ma suggerisco di farlo quando siete già un po' più esperti. Perché volendo potete prendere un VA, un virtual assistant, cioè una persona probabilmente del terzo mondo, comunque del primo mondo, che faccia un lavoro online per voi, che vada a fare scraping, vada a fare selezione, ma se voi non avete le idee chiare, se voi non avete compreso cosa volete fare, è molto difficile che lui vi scherisca le idee e che lui vi vada a fare risultato. Quindi in questo caso meglio imparare. E poi successivamente vado a delegare. Ma se non avete proprio tempo potete trovare qualcuno di già più esperto che faccia una ricerca buona per voi. Quindi in questo caso il mio consiglio personale è di andarlo a fare in un secondo momento. Ma ovviamente questa è discrezione vostra. Io l'ho fatto in un secondo momento, quindi per questo vi do questo consiglio. In caso voi lo prendiate dovete dargli tutte le informazioni chiave in base a cosa volete cercare, ad esempio gli dirò cercami dei contenuti nella nicchia top 10 oppure nella nicchia travel, in lingua italiana, inglese, francese, con delle lunghezze di questa tipologia, con delle potenzialità di questa tipologia, con un voiceover, senza voiceover, quindi che lui vada a cercare in base a ciò che gli richiediate. Ricordatevi sempre che farlo su della nicchia deve essere un matching tra ciò che sapete fare, ciò che potete produrre e ciò che richiede il mercato. Perché ad esempio se il mercato richiede un film cinematografico, che adesso è in trend magari, io non sono in grado di fare un film cinematografico, quindi in questo caso qua non potrò offrire un prodotto di qualità ai miei utenti e quindi in questo caso non potrò ottenere grandi risultati. Dovrò abbassare le mie aspettative rispetto a quelli iniziali e quindi non è una cosa buona. È meglio andare a cercare un settore comunque dei contenuti e delle nicchie che io posso andare a fare e posso andare a creare con più semplicità e posso andare anche a scalare in un secondo momento. Andiamo adesso a vedere qual è il secondo lavoro o mansione da delegare per avere un team performante e poter scalare al meglio, poter creare contenuti in maniera continua. L'editing o il videomaking. In questo caso perché andiamo a delegare? Perché è un lavoro che richiede comunque competenza, a meno che non facciate contenuti molto molto semplici, è un lavoro che richiede molta competenza andare a fare l'editing. Perché bisogna avere competenze tecniche, competenze grafiche, competenze creative, competenze di ricerca. C'è tanto lavoro dietro. Quindi il mio consiglio, se non siete particolarmente schillati, non avete voglia di imparare, meglio andare a cercare un video editor e un videomaker. Che dipende ovviamente, videomaker è colui che ti filma le clip, quindi se dobbiamo andare a fare delle riprese che ad esempio, che ne so, disegniamo oppure facciamo altre robe, colui è un videomaker che potete farlo voi stessi in autonomia, oppure facciate dei contenuti inerenti all'atletica, andate a firmare al campo atletico. Questo è un videomaker. L'editor è colui che elabora il contenuto, che lo monta, che lo studia, lo migliora, gli va a mettere delle clip, delle coperture, fa tanto lavoro per migliorare il vostro contenuto. Ma andiamo subito a vedere come si può delegare e quali punti devo considerare per un editor o per un videomaker. Le competenze tecniche, appunto, prima. Perché se non ha competenze tecniche il nostro video editor, videomaker, a sto punto è meglio farlo noi. A meno che state partendo con un amico e vi state splittando i lavori, cioè voi partite da zero magari con lo studio, lui parte da zero con l'editing, ma il mio consiglio è prendere qualcuno che un minimo mastica il linguaggio. Perché partire da zero in questo settore, in particolare usare piattaforme come Final Cut, Premiere Pro, Filmore e così via, c'è un minimo di trigger, quindi dobbiamo iniziare a usare le piattaforme, dobbiamo iniziare a usare minimo performanti e successivamente possiamo creare contenuti. Ma non è una cosa che imparo oggi e domani faccio un video, no, assolutamente. In più, se è un video particolarmente complesso, è molto difficile ottenere risultati senza costanza di determinazione e tempo di acquisizione di informazioni. Quindi devo testare, testare, testare fino a quando divento bravo e inizio a implementare meglio. In questo caso vi consiglio di andare a cercare sulle piattaforme varie di freelancing dei video editor, perché ne troverete davvero, davvero tanti e anche molto bravi, devo dire. Una cosa importantissima teneramente è che abbia un portfolio, perché se prendiamo un newbie, una persona che non ha fatto niente fino ad oggi, è molto difficile che otteniate i risultati. È meglio che abbia un portfolio, che abbia già fatto dei contenuti, sappia cosa fa, e voi possiate vedere se la qualità dei contenuti che hai eseguito fino ad oggi è pari alle vostre idee o alle vostre aspettative. Perché se vado a cercare un contenuto, come dicevo prima, nicchia cane o top ten, e questo contenuto fa davvero ribrezzo, meglio non prendere quell'editor. Quindi vado a valutare anche questo, vado a valutare tempistiche, il timing, il minutaggio, la dinamicità, vado a valutare diverse cose del lavoro di un editor. Quindi vado a vedere anche la qualità del lavoro del suo portfolio. Una cosa importantissima che deve fare l'editor è di avere comprensione del vostro pubblico. Seppur può essere minima, è meglio avere un editor che abbia un minimo di comprensione del vostro pubblico che gli piacciono i contenuti. Se ad esempio dovete fare video motivation, vi consiglio di prendere un editor che apprezza quei tipi di video. Cioè che gli piacciono magari i video dove parla Indirotet, dove parla chiunque altro, ma che gli piacciono quei video perché darà al massimo per farli e avrà considerazioni di ciò che c'è sul mercato. Quindi cosa piace al pubblico, lui saprà bene perché lui è pubblico e saprà come andare a fare i contenuti perché se piacciono a lui piacciono anche, diciamo, le persone simili a lui, quindi la vostra nicchia. Importantissima anche la conoscenza del settore che si lega direttamente alla comprensione del tuo pubblico. Come dicevo un attimo fa, se prendiamo ad esempio un video motivation, è meglio una persona che conosca il settore perché se non conosce il settore siamo punto a capo. Teniamo a mente sempre che la collaborazione e comunicazione è molto importante perché se la persona non sa stare al suo posto, non sa fare quello che gli chiedete oppure non mantiene, diciamo, i ritmi, non è in gamba, siete punto a capo. E in più la comunicazione. A volte valutate sepigliare qualcuno dal terzo mondo o dal primo mondo in base anche alla potenza comunicativa perché se io devo star lì tre settimane per spiegargli come fare un contenuto perché non ci capiamo a livello di inglese o a livello di lingua è molto più semplice e meno dispendioso a livello di energie e focus andare a prendere qualcuno che vi capisce meglio. Quindi anche lì valutate bene, filtrate per lingua, filtrate chi volete se non avete un minimo di conoscenza dell'inglese. Vi consiglio di partire da italiani, trovate anche gente abbastanza economica, ma in questo caso la comunicazione è fondamentale perché se magari ho un'aspettativa voglio creare un contenuto X e lui mi consegna un contenuto che è Y e non c'entra niente con quello che ho fatto fino ad oggi e quello che pensavo io e quindi si crea un rapporto derudente da entrambe le parti perché voi non sarete soddisfatti dell'editor e l'editor non sarà contento perché non vi ha prodotto un buon lavoro e quindi rischia un rifondo, un rimborso o altre robe eppure ha lavorato. Quindi meglio avere qualcuno con cui comunichiate in modo efficace. Tenete sempre a mente i tempi di consegna. Chi fuori ha le consegne nella mia azienda è fuori. Perché? Perché se abbiamo una timeline da seguire mercoledì mi devi consegnare il contenuto va bene puoi avere un problema e lo accetto ma se tutte le volte fuori le consegne non può andar bene. Ricordatevi sempre che la disciplina sta alla base della crescita sinuosa della vita e anche del business. Quindi in questo caso meglio cercare qualcuno che è più predisposto a lavorare in un ambiente diciamo di crescita perché almeno può consegnarvi materiale sempre in tempo e ha voglia di fare e di produrre. Sei iper oberato di lavoro probabilmente non fa per voi. Valutate sempre bene il prezzo e il budget che avete. Quindi fate un'analisi prima di cosa volete spendere come budget cosa volete investire in questo progetto e successivamente andate a valutare il prezzo potete spendere per singolo video. Nelle lezioni successive forse una delle ultime vi andrò a mostrare esattamente come si acquisiscono le persone come si fa ricerca e come si stringono collaborazioni con le persone. Quindi andremo a vedere anche questo passo però è importante che abbiate le idee chiare e capiate cosa vogliate fare. È anche significativo trovare una persona che abbia la flessibilità e adattabilità adeguata perché se una persona che tu gli chiedi fammi A, B, C e lui ti fa solamente A, B e non ti fa neanche C oppure al contrario gli chiedi un consiglio un lato creativo perché magari non avete conoscenza tecnica voi delle piattaforme come Premiere Pro Final Cut e lui non sa darvi lasciate perdere perché deve esserci comunque un lavoro sinuoso come detto prima e lineare per una crescita progressiva e se questa persona capite subito che non ha voglia oppure che non è gentile è sgorbutico non vi piace come lavora cambiate io vado tanto a feeling in questi casi ok la professionalità ok tutto ma va molto a feeling quindi se ci troviamo bene bene se non ci troviamo bene cambio persona ricordatevi che nel mondo siamo quasi 8 miliardi o forse ben persino passati quindi troverete sempre la figura adatta a voi da far lavorare nel vostro team un aspetto molto influente è che abbia un minimo di conoscenza delle conformità alle linee guida di YouTube perché se non ha conoscenza delle linee guida di YouTube dovrete fornirgliele voi e dovrà imparare a fare il contenuto in base alle linee guida non è detto che un videomaker della Mediaset o del cinema chi più ne ha più ne metta sia il migliore al mondo noi spesso abbiamo commesso errori perché pensavano di prendere l'art director top o una persona super brava che poi a livello di competenza di YouTube non aveva idea perché usava robe con copyright non era capace a fare i contenuti non capiva come catturare l'attenzione dell'utente perché era abituato a far film a fare robe più lunghe qua si tratta di un'attenzione molto veloce sulle piattaforme online ormai l'attenzione è sotto i 5 secondi quindi in questo caso devo essere bravo anche a intrattenere le persone e in questo caso la bravura sta nell'editor quindi ragazzi mi raccomando trovate qualcuno che ha già fatto dei lavori su YouTube che sia appassionato che gli piace quello che fa che voglia di studiare e di creare contenuti in maniera sempre più progressiva che sappia far bene il suo lavoro e voglia crescere insomma ricordatevi sempre di controllare i feedback e le revisioni quindi anche lì dovete fare delle valutazioni è meglio prendere una persona che ha 3000 recensioni a 4 stelle oppure uno che ha 5 stelle ma con 3 recensioni dipende dipende anche dal prezzo ricordatevi che più feedback e recensioni a questa persona probabilmente più soldi vi chiederà quindi è importantissimo in più fate caso alle revisioni voi dovete avere un numero illimitato di revisioni perché tante volte il materiale che vi viene consegnato non è conforme alle aspettative quindi dovete farlo migliorare ottimizzare magari ci sono piccole cose su 15 minuti di video magari avete 3 secondi da cambiare 7 secondi 40 secondi che non vi piacciono dovete avere una comunicazione ottimizzata col vostro creator per poter andare a creare un video intrattenitivo e di alta qualità quindi tutti questi punti sono importanti e si legano uno con l'altro mi raccomando con voi teneteli tutti quanti a mente perché sono tutti tutti super importanti ma passiamo adesso a un'altra figura del nostro team chi ricerca i contenuti la ricerca di contenuti da usare quindi clip video stock footage immagini musica produzione di AI quindi come i giorni eccetera video effetti visivi effetti audio ci sono tante cose da cercare nel contenuto può essere fatta dal nostro video editor video maker oppure se riteniamo opportuno si può anche prendere una singola persona per farlo noi in alcuni progetti più grandi abbiamo delle persone che cercano solamente del contenuto e creano delle cartelle di drive continue con i contenuti più interessanti che trovano per andare a creare un contenuto sempre migliore però io vi consiglio che questa persona la troviate quando siete a un punto di saturazione del vostro editor perché l'editor lo fa in autonomia questo lavoro ma è un punto in più che ho voluto mettere per essere molto preciso perché ad esempio noi lo utilizziamo ma su progetti ragazzi molto molto più grossi quindi importante tener a mente che può essere considerabile prendere questa figura quando siete in un momento di scalata alta un'altra operazione delegabile molto importante è la thumbnail design che sarebbe far realizzare le copertine e abbia la necessità di avere un freelancer che sappia usare i programmi di editing come photoshop o in alcuni casi minoritari canva anche se non vi consiglio tantissimo usare canva però se il creator usa canva ragazzi usatelo voi stessi cioè se usarlo io canva che non sono un genio della grafica sapete usarlo benissimo anche voi quindi in questo caso trovate qualcuno che sappia usare photoshop illustrator o gli altri tool per andare a creare delle copertine molto interattive molto interessanti per andare comunque ad avere un ctr molto molto alto tien a mente che prendendo questa persona risparmi tanto tempo e sforzo e puoi fare affidamento su qualcuno con delle competenze molto più alti di design rispetto alle tue e tornando al discorso di prima se sei bravo a fare selezione quindi il lavoro dell'imprenditore puoi trovare un freelance a prezzi davvero irrisori con una qualità davvero alta di risultato quindi dovete fare molte ricerche in questo caso per trovare il miglior grafico chiamiamolo passiamo alla figura che io sconsiglio sempre di fare a tutti se non avete una bella voce o comunque non sapete narrare e recitare in modo consono è il voiceover trovare un voiceover sulle piattaforme di freelancing è molto molto semplice te lo consiglio se non puoi usare la tua voce in caso tu non abbia una voce adatta io ho sempre delegato questa parte ad esempio perché non trovo che la mia voce sia adatta per dei contenuti nonostante con le modulazioni audio possa far tanto ma è meglio delegarlo per il mio poi ognuno ha il suo modus operandi ma io ti consiglio di delegare questa parte perché ti prende tanto tempo perché ti prende tanto tempo e ti prende anche tanta voce quindi tante volte hai essi senza voce solamente perché hai recitato 4 video ed è molto difficile se non sei esperto fai dei test sempre per cercare la voce più adatta per il tuo contenuto e anche edizione accento e tonalità tante volte i creator hanno proprio dei sample della loro voce e vai a sentire ad esempio il loro accento la edizione la tonalità se hanno accenti anche e quindi questa cosa qua è importantissima per andare a creare un contenuto che intrattenga bene le persone ricordiamoci che una voce che va di pari passo il contenuto farà apprezzare molto di più il video perché se avete una voce leggera piacevole calda il video andrà molto meglio perché questo contenuto viene apprezzato dalle persone perché è come guardare un video per intenderci smr cioè la parte visiva la parte audio e in questo caso la parte visiva la fa il tuo video e la parte audio la fa la sua voce quindi se avrà una bella voce la persona sarà invogliata a vederlo e in più ci sarà anche il tasso di riconoscibilità fateci caso quando sentite la voce di spider-man o la voce di batman o la voce di iron man voi sentite quella voce lì magari in un altro film e dite cavolo quello è iron man quello è spider-man quindi è anche una cosa basata sul tasso di ricordo sul riconoscibilità del canale adesso andiamo a vedere l'ultima figura da andare a prendere per poter delegare al meglio il vostro progetto lo script writer che cos'è uno script writer è una persona che andrà a scrivere il contenuto farà lo script insomma da far recitare al voiceover un narratore in questo caso basterà fare un annuncio o ricerca sulle varie pettaforme in base a su date fever app work freelance.com people per hour quindi dipende molto da dove cercate ricordatevi sempre di mandargli un video loom dove spieghi la tematica dei tuoi video e l'obiettivo del tuo lavoro per te manda tante tante referenze e cerca di capire se questa persona fa il caso tuo e se ha esperienza su youtube principalmente perché come dicevo in precedenza non è detto che il miglior video editor al mondo che edita i contenuti della marvel faccia un lavoro egregio per youtube e non è detto che il narratore delle pubblicità faccia un lavoro egregio per youtube quindi in questo caso se ha esperienza su youtube molto meglio perché sa fare dei contenuti molto più dinamici un punto importante su cui mi voglio soffermare ricordati bene che non è detto se questa persona sa ad esempio scrivere libri come ho scritto qua sopra sia adatto per i video youtube perché lo script è molto importante per tenere alta l'attenzione dell'utente quindi anche se avete l'amico scrittore probabilmente deve cambiare approccio mentale per andare a creare contenuti per la piattaforma di youtube un'altra opzione è anche farti aiutare dall'intelligenza artificiale tipo chat gpt o altri tool per scrivere gli script e puoi fare le correzioni in tua mano oppure farti aiutare da chi è più competente di te a livello lessicale e verbale quindi in questo caso potete trovare grande ricchezza anche nell'ei per farvi fare la parte di scripting bene ragazzi per questa lezione è tutto ci vediamo nella prossima lezione mi raccomando riguardate bene i punti che abbiamo visto per la delega efficace e per creare dei contenuti ad alto intrattenimento quindi delegare alle persone giuste è fondamentale ma che voi siate il collante è ancora più fondamentale quindi valutate bene questi punti ci vediamo nella prossima lezione grazie a tutti